Bentornati in Smokey King BBQ Experience, il canale che parla di barbecue a 360 gradi. Oggi non cucinerò, ma sono in una fantastica competizione internazionale. Sono la SCA. SCA o Stick Cook-Off Association è una competizione internazionale che nasce negli Stati Uniti che è arrivata anche in Europa, con alcune tappe anche in Italia. Noi oggi intervisteremo alcuni dei team e scopriremo un pochettino dei loro segreti, dei loro trucchi per come partecipare a una di queste gare. Allora, Onyoke Smoke, team campioni italiani 2018. Oggi torniamo finalmente fra tutti noi, fra la family del barbecue, per fare una grande competizione. Squadra non solo di competizione, ma dopo dei risultati che abbiamo avuto, anche con dei piatti particolari, ci hanno chiamato dei pub, dei ristoranti, quindi barbecue, gare, eventi e corsi, quindi facciamo anche formazione. Questo è il nostro gazebo, dove chiaramente ci deve essere tutto pronto per fare, per essere pronto. Quindi abbiamo un tabellone dove ci sono tutti gli oreari di ciascuno cosa deve fare per noi, le regole per la bistecca perfetta, c'è una gara di bistecche oggi, quella lì, le regole per avere i punteggi, i giudici guardano la cottura interna. Le MT57 le usiamo per la steak con le grill grate, che sono quelle griglie particolari per far venire grill marks sull'asero. No, 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 è perfetto. Qualcosa lo state preparando? Il sugo per la mac and cheese. Mac and cheese italiani per tutti i team. È la prima volta che io vengo qua, quindi... Noi alla prima gara che facciamo, siamo il team Zena Barbecue, il mio socio Filippo, e niente, che dire, siamo nati praticamente adesso, prima gara, prima gara, che Dio ce la mandi buona. E con cosa griglierete? Sicuramente le ribeye di DALF, che è il nostro sponsor, con una bella birra a New York dovrebbe essere il top. No, però faccio dalla WhatsApp. Da New Yorker? E come spezie pensiamo di usare le angus e oi. Ok, quindi se ho capito bene, il vostro piano d'attacco è fare una marinatura con la birra e le spezie. Esatto. Per poi finire la cottura su... Bravissimo. Ho visto un Weber. Sul nostro Weber. Su un Genesis. Avete anche le grill grates per fare grill marks. Abbiamo grill grates, abbiamo tutto qua, siamo attrezzati fino ai denti, guarda. Così facciamo i grill mark come Dio comanda. di bibicchiurare un sposto. Allora, ragazzi, qui abbiamo un mio carissimo amico, nonché competitor del gare SCA, Claudio Nani. Ciao. Oltre che essere un griller fantastico di 20 anni, 30 anni di esperienza, possiamo dire che hai lanciato una tua linea di rub? Sì. Come si chiama? Ragazzi, la mia linea di rub si chiama NLC Seasoning. Eccola qua. Ci sono gli sticker in regalo. Chiunque voglia viene qui allo stand, gli regaliamo lo sticker. Settimana prossima il sito andrà online. 11 miscele di spezie per la ristorazione e per il catering. Ok? Magnifico, magnifico. E lui è molto bravo in gara, ma arriva sempre dietro di me. Oh, raga, ma guarda chi c'è. Ma guardate chi c'è. Ciao, ragazzi. Creatore a Mantovano. Allora, Giacomo mi ha chiesto di parlarvi di cosa e come farò la bistecca in gara. Ve lo spiego perché tanto non è un segreto. Se venite alle gare di barbecue, come vedete, i gazebi sono tutti aperti, quindi assolutamente si può vedere, chiedere e parlare. Io faccio già da 7-8 gare la bistecca in sous vide, quindi in sottovuoto o cottura a bassa temperatura, non so se sapete di cosa si parla. Questo mi permette di mantenere la morbidezza e la succosità della carne e forse che la carne abbia il minor shock termico possibile, che passiamo da una temperatura a frigo a quella che è una temperatura di servizio, quindi 55-56 gradi più o meno, in tanto tempo e lentissimamente. Quindi shock termico praticamente ridotto a zero. Questa è per la parte di cottura a morbidezza. Per la parte invece di searing, di grill marks, utilizziamo questo dispositivo fighissimo. Quindi un dispositivo da gara, direttamente dagli Stati Uniti, arriva l'Asti Bake HB250, in completamente in acero inox. Questo è lo SCA Edition, perché avete già le grill grates comprese. E questo serve per scaldare, per dare un flavor di carbone. Questi sono i componenti principali del sous vide e della marinatura, cioè i rub che utilizziamo. Sono anche questi rub che sono appena arrivati in Italia, sono della linea Oti Totti o il Q&Up, insieme formano l'Arca Sippy Combo, che è una nuova linea, appena arrivata, ripeto, e il gioco sta proprio nel combinare questi otto rub che si sposano alla perfezione. Io ne uso quattro, quindi quattro rub per fare una bistecca. Quali, chiaramente, non ve lo dico, questo è il segreto, però quattro di questi otto. Immaginate voi quali sono. I due più bianchi sono a base di burro, burro li ho filizzato. Gli altri hanno delle componenti aromatiche, chiaramente peperoncino, paprika, sale, pepe, cumino, tutta una serie di cose che ci stanno bene con le bistecche di manzo, e non solo. Direi che tutte queste cose qui, me compreso, ci potete trovare da BBQ Lab ad Arosio, sia pagina Instagram che pagina Facebook, che negozio fisico ad Arosio. BBcolab.it Beh, allora, Tomato nasce anche un po' quasi per scherzo, per fare due eventi, per partecipare a due garette. Nell'ultimo anno e mezzo si è fatto ben poco, prima si facevano anche corse a domicilio, cene barbecue, eventi presso locali. Adesso questo è il primo evento dell'anno, dove facciamo la SCA, partecipiamo solo alla SCA, non alla KCBS, è un po' per ritrovare tutti, è un po' come una grossa famiglia questa qua delle gare, e nulla, e si sta insieme e ci si diverte. Le gare di barbecue sono delle grandi grigliate, tra amici, ci si condivide tutto, birra, bistecche, polli, ecco qua abbiamo il pollo fatto da un gareggiatore, Peppe da Genova, quindi vuoi assaggiare? Giacomo? Volentieri. Guarda, te lo do, assaggia il bacon prima, e poi un pezzo di pollasto insieme, e questo è il bello delle gare di barbecue, perché di fatto uno gli dice vado a fare la gara barbecue, poi torni a casa che sei pieno di cibo, pieno di birra, di Coca-Cola, e di tanta amicizia. Ciao, allora, noi siamo Omar e Omar, Andrea Omar, io Omar, siamo la grida del Frau e di Smokey Porky's, BBQ Team, quindi facciamo gare di barbecue, questa qua è la prima gara di ska dell'anno, dopo un bel po' di, che siamo stati fermi, un pochettino, ha dato fastidio un po' a tutti, ha dato fastidio un po' a tutti, ha dato fastidio, e niente, siamo qua per, uno per rincontrare tutte le persone, che abbiamo lasciato indietro da qualche anno, quindi ci siamo rivisti un po' con, con un po' di persone, e due per gareggiare, per vincere logicamente, per portare a casa la vittoria. Siamo qua con i ragazzi dei porci scomodi, ci abbiamo Aldo, ci abbiamo Franca, siamo alla competizione ska, ciao ragazzi, ciao, immagino che non è la prima competizione ska, no, ma è una delle ennesime competizioni ska, ho visto che vi siete già messi avanti, avete preparato anche qualcosina per deliziarci, certo, cosa stai preparando Franca? Abbiamo preparato, stiamo cuocendo un brownie al cioccolato con le nacciole, ma giusto così per ingannare il tempo, come lo vuoi cucinare? L'abbiamo, guarda, l'abbiamo messo qua in diretta, nel scherzo il piccolino, 175 gradi, mezz'oretta, dovrebbe essere pronta. Che fai. Aldo, invece tu, immagino che sei pronto, carico, come una molla, carico, è un parolone, nel senso, che ci proviamo, sì, dai, siamo, restiamo sempre modesti, noi, vogliamo, dobbiamo far imparare tanto sulle stagne, esatto, sì, è solo la terza competizione che facciamo, è la terza. Dobbiamo ancora un po' prendere le misure, capire, capire come si fa, eravamo abituati ad altre cose. Io sarei curioso di sapere qual è la tecnica che vorrei utilizzare, che vorrete utilizzare per questa competizione oggi, perché c'è chi mi ha raccontato di diretta, c'è chi mi ha raccontato di affubblicatura, c'è chi mi ha raccontato di suede, tu come aggredirai la competizione? Bah, sicuramente, allora, contano anche molto le marinate i rub, cioè, indipendentemente, secondo me, dalla cottura, il gusto che si dà alla bistecca fa la differenza. Naturalmente, la tipologia di cottura, conta, naturalmente, sul risultato finale, perché qua si vuole un rosa omogeneo, quindi né troppo al sangue né troppo cotta, una... un... un... un 58, un 58 solitamente. C'è chi lo chiamano? Il pink... Ah, o pink... pink rabbit, bah, dipende, è una cosa scherzosa. Ognuno lo chiama a modo suo. è un medio leggermente più alto. Esatto, esatto, nessuna fascia di rosso, in sostanza, rosa, rosa. Esatto, esatto. Ho visto che hai preparato anche delle grill grapes. Sì, adesso le ho messe di là, però, non ancora... le ho guardate, le ho guardate, ma no... Esatto, sì, sì, per la finitura. Conta, appunto, come dicevo, contano molto le marinate, i rub, il gusto, anche, molto importante sulla bistecca. Essendo una gara molto omogenea, cioè, nel senso, tutti più o meno, fanno la stessa cosa, nello stesso modo, quindi i punteggi oscillano di veramente pochi punti, quindi la differenza la fa appunto la cottura, il gusto, il sapore, esatto. Quanto spicca, esatto. Infatti, io, un pochettino, intervistando quella, mi hanno detto che il sopra è diverso dal sotto. È una cosa assurda, cioè, io vi condivido perché magari vi faccio un po' di spionaggio di quello che fanno gli altri, mi hanno spiegato che praticamente quando il giudice aprirà il box, lui guarderà soltanto il sopra, quindi il sopra deve essere perfetto, il sotto, invece, dove c'è la lingua, deve essere la parte più saporita. Esattamente, esattamente. Perché loro assaggiano quella. Quella, loro assaggiano quella parte lì. Una serve come un giudizio visivo e l'altra serve proprio come un giudizio visivo. Sì, esatto. Cioè, sotto e sopra, ma non sotto e sopra, perché così magari uno capisce sotto e sopra. Invece no, esatto. Cioè, la bistecca viene posizionata nel contenitore apposito e viene messa praticamente in una posizione specifica. Il sopra, appunto, viene guardato dai giudici, la parte verso il coperchio dell'attaccatura del coperchio, la parte sotto cioè quella della chiusura invece è quella che viene assaggiata quella più grassa tra virgolette. Quindi in base anche tu come posizione la bistecca nel contenitore verrà così verrà tagliata e giudicata. Se tu sbagli a metterla viene tagliata magari in una maniera diversa. Come non vuoi tu esatto. Come non vogliono i giudici praticamente potresti essere penalizzato. Ciao ragazzi, ho scoperto la birra alla ciliegie la famosa criek che fa parte delle frutte delle lambic grazie. Io faccio la birra anche quella cosa non passo ragazzi. Ciao ragazzi, siamo in compagnia di Daniele che è il nostro Grail Master in Italia quinto in Europa giusto Daniele? Attualmente quinto in Europa dunque siamo in compagnia di un Grail Master di quelli tosti. Io che sono umile e ci capisco ancora poco di queste gare mi ha spiegato un po' Daniele che sono molto impegnative si basa tanto anche sull'estetica sulla perfezione del colore la presentazione e adesso faccio continuare a Daniele che è più esperto di me. I parametri fondamentalmente sono sempre cinque quelli che i giudici vanno in gara che sono l'appearance cioè l'aspetto della bistecca la dunness che è come viene cotta deve essere un perfettamente medium viene chiamato warm pink cioè un rosa caldo poi viene la texture che è fondamentalmente la fibra come si presenta e alla fine è il taste che è il quarto il taste rispetto agli altri ha un punteggio di 10.9 quindi leggermente più alto ogni giudice può dare qualche punto in più alla fine ogni giudice dà un punteggio di una loro media che decidono loro e grazie a queste cinque valutazioni si ottiene un punteggio che ti fa vincere perdere o fare un buon risultato io provo a essere sempre almeno essere nei top 10 in mente decimo ma molto spesso quest'anno è una buona annata sono a sette gare a oggi sono entrato sempre nei top 10 ho fatto due volte sette una ottavo un quinto un quarto stai viaggiando vorrei provare a portare a casa almeno un podio questo al suo giro perché ci spieghi un po' come funziona questo nei punti i punti semplicissimo i giudici si lavora con dei boxi anonimi quindi non si sa da chi arrivi la bistecca viene tagliata a metà metà superiore viene guardata come aspetto e come cottura il dunness la parte inferiore invece viene tagliata e viene assaggiata dai giudici come morbidezza e come sapore i punti sono praticamente da 1 a 10 tranne il punteggio del sapore il taste che va fino a 10.9 quindi capite bene che 5 giudici hanno 5 punti di valutazione da 10 punti fanno 50 punti più lo 0,9 del taste fa 50.9 il massimo del punteggio è 254.5 questo è il massimo score che finora lo hanno raggiunto solo due persone al mondo tutte e due texane in America Sandy Brown che ha vinto l'anno scorso l'anello a punti 2020 e quello del 2019 non mi ricordo adesso mi sfugio per loro la cultura più che altro loro fanno 60 gare all'anno cioè noi facciamo 10 gare all'anno voi capite bene fanno mediamente possiamo possiamo avere gli stessi aromi le stesse tecniche gli stessi season purtroppo da mano a mano va sempre a modificarsi cioè la mia sensibilità sulla griglia è diversa dalla tua è diversa da quella che c'è di domenico il tempo che io decido di rimanere in griglia è una cosa o la posizione sulla griglia è una cosa addirittura anche con i miei chef a volte mi tocca andargli a richiamare perché per me commettono dei piccoli errori che mi vengono naturali non commettere ma per chi si avvicina al mondo barbecue e viene subito dal mondo cucina sono due mondi completamente separati sono la cucina è una cosa la griglia è un'altra io assomiglio sempre questo a se tu sei uno chef e sei un pizzaiolo tu come chef puoi fare la pizza ma non ti viene mai come quello del pizzaiolo e tu pizzaiolo puoi fare la cucina ma non sarai mai uno chef perfetto la griglia è il terzo cioè tu sei il terzo se uno chef si mette sulla griglia non è detto che riesca a fare bene nella carne e se un grill master o pit master si mette a fare la cucina assolutamente non verrà mai la cucina buona se posso aggiungere il terzo step il discorso smoker il discorso è un'altra cosa ancora quindi la gara che faremo poi domani brisket e così via sono altre cose perché passiamo nella fumitazione dei KCBS che è un'altra competizione ancora guardate velocemente vi faccio vedere tenendo il tempo facciamo vedere questo è il mio dispositivo il mio grill progettato da me realizzato a Piacenza 2 mm in acciaio inox con un sistema basculante che sale e scende il basket con il carbone caspita mi stiamo a me su facebook meetheater.cz senza punto meetheater.cz ma lo trovate anche sul cartellone all'inizio io ragazzi adesso vi saluto perché purtroppo devo scappare alla meeting della carne altrimenti non mi danno la carne non partecipa alla gara mia moglie mi fa secco perché dopo che vengo da Praga fino a Modena per gareggiare se non prendo la carne si arrabbiano grazie a tutti dagli è tutta ci provo ci provo mi impegnerò al massimo ma non volo mai ciao ragazzi grazie ragazzi praticamente questa è la seconda bistecca che ci serve per fare dei test di cottura e anche per la temperatura e saperci regolare anche per le prossime volte adesso la assaggiamo la assaggiamo innanzitutto devi vedere il pink e quindi ovviamente puoi vedere anche questa cosa che vuole cottura il green maps che chiaramente ci sono li vedi e ci devono essere devono essere dritti ma li vedi quando la bistecca intera guarda com'è su cosa adesso la la assaggiamo ti ricordo che abbiamo un capullero a battura però leggera perché non è quella da gara visto che la dai tutta in un assaggio o meno un assaggio io adesso no grazie è una bomba la battura è fenomenale ho sentito un'esplosione di sapori però piacevole molto non è salato sento leggermente un po' di aglio un po' di paprika che arriva alla fine sì sì arriva dopo non è invasiva è morbidissima e poi una succosità esplosiva proprio una scioglievolezza che guardate green marks in un boccone praticamente che sono perfette e anche il discorso del colore pink che deve essere per avere un voto alto è quello qua questo è un pink pink secondo me poi in base ai giudici io sono di parte ovviamente secondo me quindi siamo contenti le abbiamo assaggiate di tutti i modi reverse dirette non dirette affumicate cioè io non ho potuto registrare tutto per ragioni di gara però sapori incredibili e adesso c'è la premiazione quattro pesco ticket 126 1 2 6 3 2 3 Terzo posto, 129, 1, 2, 9, con furone da Ricastelli Romani. Sono emozionatissimo, veramente, grazie. Secondo posto, T1, 1, 1, 6. Potete venire a Lupe Sbocca perché vi avete aiutato in questo risultato, ragazzi. Primo posto, T1, Blue Tickets, 6, 8, 9. Ah, sono io? 1, 3, 2. Ovviamente anche tu hai un ferro di legno, il Golden Tickets. Quindi va Domenico e Liccio. Domenico e Riccio. Domenico, Domenico e Liccio. ricevi il Golden Ticket per andare in America e il mio figlio è un mio papo ma appunto il team ogni un che vuoi vai ogni un che vuoi a presto